Buonasera, sono un po' carico di carta, stasera ma il motivo è molto semplice, siamo nel bel mezzo del Festival Richard Strauss, questa iniziativa, terza iniziativa di questo tipo che il Teatro Reggio insieme a molte altre istituzioni musicali e non solo della Città di Torino e anche da fuori della Città di Torino stanno realizzando in omaggio alla figura di questo compositore. Figura a cui il teatro dedica diversi appuntamenti, quello per cui siamo qui stasera è la Salome, la sua opera, quella che ha dato la popolarità a Strauss come compositore per il teatro musicale, ma avremo anche il concerto sinfonico il 24 febbraio, direttore della giornata della Noseda, con due partiture molto definitive e rappresentative del catalogo per grande orchestra di Strauss, Aus Italien e Don Quixote. Venerdì in conservatorio un programma misto con tre organici diversi, le fanfare per ottoni in collaborazione con il conservatorio di Torino, con gli allievi del conservatorio e poi il nostro coro, con i brani per coro a cappella e i nostri fiati dell'orchestra che faranno un lungo brano per questo repertorio. E poi, come dire, a sostegno un po' della scelta di questo compositore, che è il primo non italiano di questi tre festival che negli ultimi anni sono stati realizzati, dopo Alfredo Caselli e Antonio Vivaldi, la mostra Ricard Strauss e l'Italia, che, come forse già sapete, è allestita alla Biblioteca Nazionale e che vi invito a visitare, di cui questo è il poderoso catalogo che abbiamo pubblicato con Alemandi per l'occasione. Incontri, abbiamo avuto lunedì un incontro molto piacevole con il maestro Noseda e il direttore artistico Gaston Fonio e Fazio al Goethe Institute. Stasera abbiamo il piacere di avere qui una new entry, peraltro, o comunque è da molto tempo che non tornavo ai nostri microfoni, con Andrea Estero, che è il direttore di uno dei principali, se non il principale mensile dedicato alla musica classica, che è Classic Voice, e che ci parlerà della Salome di Strauss. Venerdì ancora una giornata importantissima con il convegno internazionale che è organizzato dall'Università di Torino, il Centro Studi per il Trato Musicale, al Circo dei Lettori per tutto il giorno si discuterà, con interventi di studiosi provenienti da tutto il mondo, si discuterà di Wilde, di Strauss, della Salome, della cultura europea di quel tempo e quindi capire quali ingredienti, quali componenti entrano nella restituzione sulle scene di questa storia di antiche origini, come sapete, dalla Bibbia. Quindi vi invito davvero, per quanto potete, a frequentare questi incontri e concerti, confidando che questo progetto unitario poi si traduca in una partecipazione, un'assimilazione da parte del pubblico organica. Prima di cedere la parola ad Andrea Estero, vi voglio segnalare anche che altre cose di natura diversa, ma ugualmente importanti per il teatro, martedì pomeriggio alle 5.30, in sala Caminetto, verrà presentato il DVD dell'opera Leggenda di Alessandro Solbiati, opera che il teatro Reggio ha dato in prima assoluta sette anni fa e che adesso finalmente ha trovato la sua realizzazione audiovisiva. E un altro prodotto audiovisivo di recente realizzazione è quello che Intesa San Paolo ha realizzato di Lella Manollesco della scorsa stagione, che verrà presentato insieme al precedente Barbieri di Siviglia e questo sarà giovedì mattina alle 11.30. Torniamo a Salome, Salome è diretta dal nostro direttore musicale Gianandreano Seda, è una lettura musicale davvero intrigante e interessante. Come saprete già, lo spettacolo sarà rappresentato in forma semiscenica. L'incidente occorso durante la recita di Turandot ha causato un blocco, un fermo della macchina scenica del teatro che è stata sottoposta a indagini e che ha compromesso la possibilità di realizzare qualunque tipo di allestimento scenico di grande portata come peraltro era quello di Carson. Per cui Lori Feldman, già assistente alla regia di Carson, ha predisposto, approntato uno spettacolo comunque con recitazione, con movimenti, costumi e quindi l'azione teatrale salvaguardata in forma non spettacolare ma appunto semiscenica con tutto quello che ci deve essere dal punto di vista estrettamente drammaturgico. Gli interpreti sono specialisti di questa opera, di questo repertorio per cui insieme alla direzione di Noseda ci aspettiamo un ottimo spettacolo. Andrea Estero ci dirà molto di questo titolo che con questo chiudo peraltro fa parte un po' della storia di questo teatro avendo noi ospitato la prima esecuzione italiana dell'opera nel 1906 sotto la direzione di Richard Strauss, medesimo che debuttava in quell'occasione sul podio di un teatro italiano. Quindi siamo molto affezionati a questo titolo e quindi ce lo godiamo a partire dalla tua relazione. Grazie. Grazie. Vi ringrazio molto per essere venuti, ringrazio perché vedo che la sala è davvero piena e quindi fa sempre piacere quando le sale dei teatri o delle conferenze sono così piene di pubblico. Vuol dire che c'è interesse e d'altra parte si sa che il Teatro Reggio di Torino è un teatro da questo punto di vista vitale. e poi si pensa sempre come iniziare una conferenza, con quale idea una conferenza di questo tipo. Io direi che l'idea forte da cui partire è quella che riguarda una differenza tra Salome e gli altri titoli del repertorio romantico e non che frequentiamo. Il fatto che per Salome mentre appunto Mimi, Violetta, Carmen, le eroine che conosciamo sono prima di tutto eroine dell'opera e quindi il nostro confronto con questi personaggi parte dal titolo d'opera. Nel caso di Salome non è proprio così perché il mito di Salome, la figura di Salome in qualche modo preesiste, quindi viene prima dello stesso titolo. in questo caso di Staus è vero anche negli altri casi ci sono delle paternità, delle fonti letterarie, sono delle storie che sono nate prima, però come dire è in dubbio che Violetta sia quella di Verdi, ecco. Invece in questo caso le cose sono più complesse, per esempio a popolare questo immaginario nostro di Salome, appunto, di questo personaggio così intrigante, c'è stato e c'è soprattutto il cinema. Ho fatto un piccolo censimento dei titoli che a partire dal secondo dopoguerra poi sono stati dedicati a Salome, appunto, già dal 1945 Salome Where She Danced, un primo film, il secondo nel 53 di William o William D. Terle, un regista tedesco naturalizzato statunitense, e poi tanti altri, fino ad arrivare forse a quelli più noti a noi, la Salome di Carmelo Bene del 1972 dove c'era appunto un intrigante protagonista calva che è appunto pur come figura disadattata ma riassumeva in sé tutti i possibili vizi e ostentava anche quelle perversioni sessuali per le quali appunto questo personaggio diventa famoso. All'opposto, diciamo dal punto di vista della gerarchia estetica, se così vogliamo dire, c'è anche la Salome di Claude Danà, invece, un regista francese, film del 1986, la cui protagonista è addirittura interpretata da una pornostar, proprio per dire come questo aspetto diciamo della lascivia ha influenzato il nostro immaginario nelle nostre menti e la domanda è appunto questa, questo immaginario, questa figura, questo profilo riguarda anche l'opera di Strauss? La risposta la sapremo alla fine se avrete la pazienza di ascoltarmi ma è evidente che non è così appunto che c'è dell'altro nell'opera di Strauss lo racconterò in spero brevemente in diciamo quattro capitoli e un epilogo lo dico così potete seguirmi nella scansione di questo racconto e anche magari fermarmi se i capitoli non procedono abbastanza velocemente ecco la prima la prima parte vorrei dire qualcosa sulla genesi ovviamente di questa di quest'opera anche per ricordare quei dati essenziali che poi ci fanno comprendere i contesti perché parlando di Oscar Wilde appunto il dramma la pièce da cui deriva tutto dobbiamo dire che nonostante la nazionalità di Wilde appunto poeta irlandese e poi dell'ambiente britannico diciamo la salome di Oscar Wilde è un'ABS soprattutto legata al mondo letterario francese Wilde la scrisse nel 1891 appunto in francese a seguito tra l'altro di esperienze artistiche di quella stessa ambiente perché fu affascinato vide questi quadri di Gustave Morot un poeta un pittore simbolista dell'epoca che sono quadri tra l'altro descritti sono due l'apparizione è salome danza davanti ad Erode e sono dei quadri che sono stati descritti con grande abilità letteraria da Georges Charles Hussmann nel famoso romanzo Horebure appunto altro romanzo emblematico della cultura francese dell'epoca in cui appunto il protagonista il perfetto decadente Jean de Zessent possedeva questi quadri e ne fa una descrizione diciamo emblematica da questo punto di vista appunto la divinità simbolica dice dell'indistruttibile lussuria dea dell'immortale isteria la bellezza maledetta bestia mostruosa irresponsabile indifferente insensibile è proprio quella figura che Mario Prats un famoso famosissimo critico anglista aveva chiamato la belle dame sans merci quindi quella che poi noi indichiamo con fan fatal quindi diciamo la la salomè di wilde nasce in quest'ambiente c'era tutta una riviscenza di figure di figure di salomè in quel periodo in Francia non possiamo affrontare ovviamente tutte queste genealogie ma era un personaggio presente a partire da gli scritti di Jules Laforgue Flaubert che è appunto scritto questo racconto erodiaz da cui poi deriva l'opera di Masnè e poi il poema incompiuto di Mallarmè c'è tutta una serie di scritti di produzione letteraria che segna un po' un interesse per questo personaggio nessuna però di queste di queste fonti è davvero legata all'esito che ne darà Oscar Wilde più che altro Wilde colloca per la prima volta forse questa storia nel clima del decadentismo e del simbolismo francese parigino proprio con delle connotazioni specificamente francesi appunto era un po' quel clima ostile alla letteratura sociale che appunto tra simbolismo e decadentismo voleva un po' osteggiare la letteratura del grande romanzo francese precedente e infatti l'opera è pubblicata prima che a Londra proprio a Parigi poi dopo nel 1893 verrà pubblicata e tradotta e pubblicata nel 1894 con una traduzione di Alfred Douglas l'amico compagno dello stesso Oscar Wilde ma la prima pubblicazione avvenne in Francia e la prima rappresentazione a Parigi al teatro del teatro importante da questo punto di vista perché proprio era all'epoca il regno dell'avanguardia simbolista diciamo quindi scene essenziali gestualità diciamo molto astratta una recitazione quasi salmodiante e quindi secondo tutti poi quei criteri quei dettami della cultura simbolista che volevi innovare proprio sulla scena e il repertorio questo teatro venivano messe in scena opere addirittura in sanscrito per esempio quindi si cercava di uscire fuori dai binari dai soliti binari nel 1892 appena quattro anni fa fu rappresentata al teatro del Pelleas Pelleas è Melisand di Metterlenk da cui poi Debusitras è il suo titolo e nello stesso anno Rehubu di Alfred Jarry quindi un titolo emblematico della cultura surrealista in questo caso Salome sta anzi in questo caso dato che parliamo di Wilde Salome sta dentro questo contesto questo contesto che da tenere ben presente per comprendere la sua il suo profilo la sua identità e ovviamente fu un caso letterario teatrale di fama internazionale la sua fama appunto di opera un po' scabrosa anche si diffuse in tutta Europa compresa in Italia in cui fa protagonista Lidia Borrelli e arrivò nel 1903 a Prodau al teatro al Kleines Theater di Berlino dove fu messa in scena da Max Reinhardt altro regista autore diciamo di quella stagione e qui proprio qui nel 1903 a Berlino la vide Richard Strauss Richard Strauss che rimase folgorato rimase folgorato da che cosa? dal titolo ovviamente ma lo conosceva già perché un librettista che aveva un poeta viennese Lindner Anton Lindner che aveva scritto per lui dei testi un testo in realtà per un Lid gli aveva proposto proprio perché aveva sentito parlare di quest'opera e forse l'aveva anche vista un libretto su Salome Strauss aveva provato a scrivere qualcosa ma la forma del libretto che aveva sotto mano non gli aveva dato ispirazione non lo convinceva e quindi quando a Berlino sente diciamo questa prima rappresentazione in cui viene pronunciata dall'attrice quella prima da Narrabot in realtà quindi dall'attore quella prima frase emblematica come bella la principessa Salome questa sera che è la stessa parola con cui si inizia l'opera la stessa frase rimane folgorato perché proprio pensa che questa questa frase che lui sentì nella traduzione tedesca di Edwig Lachmann era proprio quello che lui voleva quindi non voleva un libretto d'opera scritto da un librettista da un poeta che mette in versi in strofe la materia letteraria ma era quello che stava sentendo nella parola recitata e quindi questo è un momento decisivo non solo per la creazione di Salome ma per gran parte della storia del teatro del novecento non è il primo che autore compositore che pensa di dover scrivere direttamente e mettere in musica non un libretto quindi un'elaborazione fatta apposta per la musica ma direttamente la pièce teatrale ma sicuramente è un momento molto importante di questa vicenda che poi gli studiosi critici hanno chiamato della letteratura oper quindi dell'opera che viene composta scritta direttamente sulla letteratura è una rivoluzione perché ovviamente mentre prima il librettista scriveva in versi predisponendo diciamo uno schema ritmico a cui il compositore si doveva tenere quindi i libretti per Verdi per Bellini per Donizetti hanno questa caratteristica sono delle delle componimenti poetici che sono vincolanti in qualche modo per il compositore perché il compositore riceve un'indicazione di dove ci deve essere l'aria e dove il recitativo dove c'è un indicasillabo appunto c'è il recitativo dove ci sono versi regolari o tonari o altri versi senari bisogna appunto passare da recitativo all'aria e quindi ci sono delle indicazioni ben precise in questo caso no è come dire nella letteratura Hopper si mette in musica direttamente quello che lo scrittore propone con la ulteriore caratteristica rispetto per esempio ai libretti di Wagner che qui in questo caso siamo in prosa quindi non c'è una versificazione di nessun tipo ma c'è proprio appunto la prosa e dunque ovviamente è il tipo di scrittura di prassi wagneriana quella che si adatta si adatta di più a questa materia libera fatta di forme libere non preordinata come capitava nelle situazioni precedenti ovviamente parte se non metà del testo di Wilde viene tagliata perché appunto bisogna ridurla a delle lunghezze adatte alla musica ci sono vengono eliminate alcuni personaggi e soprattutto botte risposta tra Erode ed Erodiade e anche le promesse di Erode verso Salome perché non cambi idea non desista dal far tagliare la testa a Giovanni insomma tutta quella commediola un po' che a Wilde piaceva molto ma Strauss l'asciugò tanto anche all'inizio il rapporto che sentirete tra Narrabot e il paggio di Erodiade e c'è l'opera si apre appunto con questa frase che ho ricordato di Narrabot il giovane capitano siriano che dice com'è bella Salome questa sera e che rincorrerà per tutta la parte iniziale dell'opera stessa Salome per avere uno sguardo ecco questa parte iniziale tra il paggio e Narrabot che in Wilde era molto più estesa si facevano dei riferimenti al rapporto omoerotico tra i due viene molto ridotta e questa ambiguità rimane soltanto nella voce del paggio che è appunto affidata a un cantante quindi a un mezzo soprano che è appunto ricordando un po' la figura della voce antravesti e comunque diciamo avendo tra le mani questa nuova materia letteraria Strauss compone inizia a comporre dall'agosto del 1903 finisce nel settembre del 4 poi passa all'orchestrazione fa sentire l'opera a Mahler che rimane impressionato in questa fase in cui Strauss fece sentire l'opera suonandola al pianoforte non c'era ancora la danza dei sette veli il famoso brano diciamo sinfonico che sentirete nell'ultima scena dell'opera che lui scrisse nell'autunno nel settembre del 5 quindi dopo questa audizione e da lì sono state dette appunto sono state pronunciate tante critiche per questa come dire questa inserzione a cose fatte di un brano bellissimo che però a tutti è sembrato sempre poco attinente allo sviluppo del dramma in realtà poi dal mio punto di vista non è affatto così e non lo è per esempio neanche per Robert Carson il regista che ha fatto questa bellissima produzione al Teatro Reggio di Torino che avrete forse qualcuno avrà visto qualche anno fa in cui la danza dei sette veli è invece al centro della sviluppo della drammaturgia e comunque Mahler apprezzò molto ma non riuscì a far rappresentare come avrebbe voluto l'opera a Vienna Vienna era la città diciamo vocata per una prima di questo genere ma la censura cattolica intransigente di questa anche se lui era direttore del teatro dell'opera imperiale non consentì si trovò la soluzione per una messa in scena al teatro alla Semperoper di Dresda dove Salomon andò in scena nel 1905 con interpreti validi tra cui la protagonista Marie Wittich che all'inizio non voleva cantarla comunque recitare perché dice io sono una cantante per bene una signora per bene non posso ballare la danza dei sette veli chiedere e baciare la testa sul piatto d'argento di Giovanni insomma c'erano dei problemi molto rilevanti da questo punto di vista c'è una fotografia curiosissima di Oscar Wilde che recita in una recita privata perché l'opera la pièce teatrale fu osteggiata per esempio in Inghilterra fu rappresentata per la prima volta nel 1931 quindi molto dopo la morte di Wilde ma dopo tutte le prime in giro per il mondo e appunto in questa foto Wilde recita lui la parte di Salomé con una veste che arrivava qui all'ombelico un po' perché forse si identificava in questa figura un po' perché probabilmente non c'erano attori o attrici disponibili a risolvere la parte nel suo complesso è stata ricordata la prima di Torino e poi questa doppia prima di fatto italiana Torino e Milano diretta da Toscanini in Italia la scala con Toscanini ci fu la prima cantante che cantò Salome e fu anche disponibile a ballare la danza dei Setteveli quindi senza quella come dire alternanza che è stata proposta a Dresda nel 1905 alla prima in cui c'era una cantante che canta tutto e poi si fa da parte per la danza dei Setteveli per lasciare spazio a una ballerina appunto a qualcuno che fosse magari meno rispettabile di lei appunto come era il caso della Marie Wittig ci furono diverse recite perché anche in questo caso come la pièce teatrale anche quella paristica ebbe un successo clamoroso dell'opera girò per tutta Europa a Berlino mi ricordo soltanto questo aneddoto proprio per come dire mitigare questa questa clima un po' morboso fatto di scomuniche preventive di ostilità eccetera nel momento in cui viene tagliata la testa di Giovanni e Salome bacia e poi dopo viene colpetta dagli scudi compare nel finale la stella di Betlemme per come dire se proprio dobbiamo farla questa Salome mettiamo appunto facciamola rientrare in una concezione più morale ecco però rispetto alla più significativa poi messa in scena la rappresentazione oltre a quella di Dresda significativa perché sull'implatea c'erano le più importanti figure di compositori critici dell'epoca fu quella di Graz la prima austriaca del 1906 qui oltre a Mahler c'erano presenti Zemlinski Schoenberg Berg perfino Puccini di cui c'è un telegramma in cui l'autore il compositore dice di essere andato a Graz per sentire la Salome ovviamente rimase ammirato c'è anche diciamo ci fu a posteriori perché è un personaggio fittizio Adrian Leverkuhn Adrian Leverkuhn è il protagonista del Dr. Faustus di Mann questo romanzo scritto poi negli anni 40 dall'autore tedesco che è significativo perché Adrian Leverkuhn era il compositore moderno dodecafonico in nuce quindi così lo racconta Thomas Mann una specie di Schoenberg appunto delle pagine di un romanzo che pronuncia questo giudizio scritto dopo ma ambientato durante questa prima dice che a proposito di Strauss che Strauss è un rivoluzionario fortunato audace e conciliante mai avanguardismo e sicurezza si sono uniti in maggiore confidenza quindi avanguardismo e sicurezza voglia di osare di stupire di sconvolgere anche con un linguaggio musicale nuovo nuovissimo per l'epoca ma nello stesso tempo la sicurezza l'attenzione per come dire il gusto del pubblico del pubblico quindi l'osare ma non osare fino in fondo è un po' una condanna quella che viene pronunciata da questi compositori che ho citato Schoenberg Berg appunto è lo stesso Adrian Leverkuhn dietro cui dietro la cui ombra si nasconde quella di Adorno ovviamente oltre che quella di Thomas Mann cioè questa è stata a lungo questa diffidenza critica appunto che poi ha riguardato anche nostri illustri critici studiosi per esempio Bortolotto ha parlato di compiacentissima prosa tradotta da un'orchestra che arde di emulazione visiva c'è un po' questa idea della superficialità quindi del voler essere visivamente pregnanti ma poco profondi in qualche modo e anche Franco Serpa meridiosità generica e perfino volgare ho segnato qualche giudizio c'era forse ecco questo poi mi è venuto in mente leggendo qui un po' di rassegne critiche questa idea che la Salome è stata scritta appunto viene messa in scena nel 1905 scomposta in quegli anni poco dopo la sinfonia domestica di Strauss sempre quindi come dire l'opera più segnata da questo presunta identità borghese di Strauss quindi dell'uomo che ama quel calore particolare che la dimensione borghese familiare appunto domestica può regalarci e l'ha celebrata in questo in questo brano poi immediatamente dopo scrive Salome come dire si mette in dubbio quasi anche la moralità l'idea che il compositore abbia un profilo estetico poetico e che lo voglia perseguire con coerenza come se questa scelta fosse stata dettata soltanto da un intento scandalistico di autopromozione in realtà le cose non stanno così è una prima conclusione quella che approdo leggendo delle parole molto illuminanti come al solito di fedele d'amico che proprio su questo aspetto ha detto delle cose essenziali proprio perché questa apparente immoralità non è tale ma è una moralità una sospensione della morale che per la prima volta in Strauss si manifesta come tratto molto moderno dell'arte e della musica in questo caso della prima metà del novecento dice Tamiiko Strauss infatti è il massimo interprete in musica di un mondo che non crede più nei valori morali neppure nei sentimenti ma solido legge il potere in sé il vitalismo l'attivismo la sua arte dunque non procede da un'urgenza etica interiore ma da stimoli esterni e poi ancora dice già che le sue facoltà espressive in che senze erano tali non in quello della partecipazione diretta sì in quello della rappresentazione non per questo Strauss va allineato senza altro nella linea di quei drammaturghi diciamo Shakespeare Mozart Mursowski che del mondo umano rappresentano soggetti diversi e tra loro contraddittori senza prendere partito in una sorta di imparzialità etica perché nel realizzarli coloro ci danno sempre l'impressione di sposare via via la causa di ognuno di identificarsi via via con ciascuno di essi invece Strauss sembra tenersi al di fuori di loro pago della sua capacità di intensamente osservare è così che Strauss come ha esattamente detto Franco Serpa ha sostituito il gesto all'affetto è proprio un passaggio in cui D'Amico dà proprio questa idea di una trasformazione metamorfosi del melodrama del dramma musicale da una situazione appunto in cui c'è un'identificazione morale nei confronti di questi personaggi che sono un po' anche degli eroi a una realtà in cui questo aspetto dell'eroismo dei protagonisti e dell'identificazione dell'autore con il suo personaggio si perde quindi c'è una sorta di sospensione del giudizio e questo come dicevo è un primo approdo di questa introduzione che abbiamo fatto che teniamo a mente per ciò che dirò tra un po' appunto la sospensione del giudizio l'immoralità che diventa amoralità adesso entriamo nel secondo capitolo quindi forse non so se ci siamo forse sì con i tempi il secondo capitolo era un po' dire qualcosa sui personaggi principali di quest'opera per aiutarvi anche poi a fruirne a ritrovarli sul palcoscenico diciamo che Salome è l'unica figura una delle poche figure del teatro di Strauss a essere storica quindi perché non sono storiche le figure della mitologia provate a ricordare voi quelle che nel teatro di Strauss da Elettra Ariadne Elena eccetera ci sono altre figure come Mari Terese di Capriccio che sono forse reali forse no comunque sono sicuramente dei travestimenti di qualcosa di reale quindi non sono delle figure storiche ce ne sono altre ancora come la Madren del Capriccio che sono dei simboli o altre protagoniste vengono dal regno della fiaba come la donna senza ombre in questo caso no la Salome è una figura realmente esistita viene citata anche dai Vangeli anzi entra per la prima volta in testi scritti proprio nei Vangeli però qui compare subito molto diversa da come l'abbiamo conosciuta e come la conosciamo a partire dal nostro immaginario nei Vangeli per esempio non è mai nominata non abbiamo tempo di leggere i passaggi di Marteo e Marco in cui si parla di questo momento ma viene identificata come la figlia di Erodi è uno strumento nelle mani di sua madre e lei Erodi che chiede dice a Salome devi richiedere ad Erode la testa di Giovanni Battista quindi assolutamente non viene nominata è una figura priva di identità quasi e di questo tra l'altro si ricorderà anche in maniera emblematica Dante che nel Paradiso citando il martirio di San Giovanni Battista dice proprio che Battista che per salti fu tratta al martirio quindi per salti nel senso della danza quindi sempre con la sua capacità incredibile di riassumere in un verso soltanto un'intera situazione quindi e poi tutta l'iconografia per esempio è capitato alcune settimane fa di vedere in una in a Mustair dove c'è un monastero benedettino uno dei più antichi d'Europa che si dice fondato da Carlo Magno con degli freschi stupendi quindi tra Svizzera e Italia c'era dietro l'altare maggiore una grandissima e molto affascinante rappresentazione di Salome che balla la danza dei sette vevi e offre la testa di fronte la mostra di fronte ad Erode e questo è dietro l'altare di una chiesa quindi nell'altare principale proprio per dire che la sua iconografia la radice della presenza di questa figura innominata era soprattutto sacra e appunto priva di identità legata al martirio di San Giovanni Battista più che altro quindi una bambina obbediente potremmo dire più che una baccante sensuale come l'abbiamo sempre immaginata noi e poi l'altro filone oltre a quello che vede la quasi sovrapposizione perché in molte fonti Salome è Erodiade si chiama come Erodiade Erodiade e Salome ma a Merfia si identificano proprio perché lei è soltanto uno strumento l'altro l'altro aspetto dicevo quello dell'amore dell'amore quasi per emulazione Salome in questi diversi romanzi fonti letterarie poemi ama Giovanni e il suo rapporto nei confronti di Giovanni è l'amore un amore ovviamente sconsiderato smisurato ma vorrebbe essere come lui ne parla Heinrich Hainey nel poemetto nel poema satirico a Tatrol ne parla Flaubert in Masnè per chi ha sentito e che conosce l'opera è emblematico perché l'opera diventa proprio una la storia diventa proprio una trama operistica a tutti gli effetti perché Salome ama Giovanni che la ricambia Erodi è molto geloso di questo rapporto e appunto fa condannare Giovanni poi lei si suicida perché teme questa condanna del suo amato quindi diciamo che in tutto ciò che è successo prima che c'è stato prima di Oscar Wilde Salome o non esisteva come figura e quindi si identificava con Erodi oppure quando esisteva amava addirittura Giovanni e veniva ricambiata nel caso diciamo estremo che ho citato di Masnè quindi Wilde di fatto compie una vera e propria metamorfosi perché sappiamo che è inutile negarlo che la ambienta in un clima completamente diverso come abbiamo detto all'inizio quindi tra l'altro poi in Wilde Salome non è strumento nelle mani della madre ma compie quella scelta come sappiamo la richiesta della testa di Giovanni la compie in totale autonomia eppure diciamo nonostante questo aspetto anche questa questa Salome ritiene qualcosa della di questa castità ecco perché alla fine il personaggio per come ce lo raccontano le fonti storiche e le altre fonti letterarie è un personaggio molto casto molto rigido molto rigoroso in qualche modo anche in quella di Wilde si ritiene qualcosa di questo aspetto e soprattutto si ritiene questo aspetto c'è anche nell'opera di Strauss non dimentichiamo che Strauss aveva definito dalle prove la sua opera uno scherzo con epilogo tragico quindi già dava delle connotazioni anche in parte più ironiche più leggere rispetto a quelle a cui siamo abituati a pensare però per esempio nella danza dei Sette Veli lui insistette molto perché questa danza non fosse un balletto dava spettacolo come dire in cui ci si spoglia poco a poco diceva che la danza era una danza orientale le danze orientali hanno una loro compostezza una loro ritualità una loro liturgia voleva che la danza dei Sette Veli fosse appunto un momento di questo tipo non appunto quello che tornando al nostro tema iniziale nel nostro immaginario c'è appunto e si è depositato quindi l'immagine della ninfomane della virago per Strauss anche nelle indicazioni che diede per l'esecuzione questo non c'era anche qui mi fermo su questo punto perché poi sarà lo svereremo alla fine quello che può essere una chiave interpretativa che tenga conto di questo aspetto e passa al secondo personaggio che è appunto quello di Yohanan Giovanni San Giovanni Battista che è ovviamente contrapposto a Salome il personaggio appunto che condanna Salome ed Erodiade nella maniera più come dire definitiva sono due poli opposti anche dal punto di vista musicale sono due poli opposti come sentiremo da qualche ascolto che ho preparato perché Salome è come dire l'esotismo il cromatismo musicalmente quindi il cromatismo è proprio la musica che non si accontenta della regolarità ma che osa dal punto di vista armonico o della faseologia invece Yohanan è proprio il contrario il diatonismo quindi la musica armonicamente come il fo come è giusto scriverla secondo le tonalità le regole dell'armonia più consueta anche il suo periodizzare è regolare c'è un episodio che sentirete nella terza scena in cui Giovanni rievoca la scena rievoca il momento in cui Gesù predica nel mare di Galilea e questa è proprio una sorta di corale protestante per come è armonicamente ordinato per come il fraseggio è regolare rispettando le simmetrie le battute tutto quello che Salome nella sua scrittura non ha quindi possiamo dire che questo personaggio ha un colore quasi nazareno se vogliamo pensare a un paragone pittorico quindi i nazareni erano quei pittori che tra 8 e 900 forse anche un po' prima erano tornati all'idea un po' medievale dell'icona rappresentazione statica con colori semplici puri ovviamente tutto questo si contrappone al decadentismo musicale e espressivo del personaggio di Salome poi c'è il terzo personaggio principale che è Erode perché mentre questi due sono opposti ma tutto sommato si equivalgono come opposti sono entrambi come dire rigidi ossessivi nella loro punto di vista Salome vuole ottenere la testa di Giovanni Giovanni vuole maledire non vuole guardare Salome non vuole sapere di lei quindi c'è questa perfetta simmetria nella diversità Erode invece è il personaggio il più indeciso il più ambiguo quello che sta da una parte dall'altra che non ha certezze granitiche che appunto mentre prima vuole che la figlia balli e difende la figlia poi alla fine la farà ammazzare praticamente eseguirà la condanna pronunciata dallo stesso Giovanni e questo si esprime in un canto diciamo mercuriale molto con intervalli scoscesi molto così irregolare molto mobile c'è quella vocalità un po' da tenore da tenore alla mime wagneriano ecco che infatti in entrambi i casi spessi venerose resa con questo suono un po' un po' nasale caratteristico per esempio anche di Beckmesser di altri personaggi negativi del teatro wagneriano che secondo me trova una prosecuzione nella in erode in sostanza in erode ovviamente il tenore Narrabot l'altro tenore lirico è completamente diverso sono i due tenori di caratteristiche completamente diverse rispetto alla l'amante l'amante del melodramma che ha una sua ultima apparizione nella appunto nella prima scena dell'opera nelle prime due scene e poi l'ultimo personaggio che di solito non non ci soffermiamo ma che c'è è la luna e questo lo dice appunto lo stesso lo stesso wild quando Sara Bernard la famosa attrice che doveva interpretare il ruolo di Salome di Salome che poi cosa che poi non fece gli disse ma io voglio il ruolo protagonista sono io la protagonista voglio più parti per me wild disse non c'è una protagonista o meglio se c'è in questo mio lavoro è la luna e in effetti la luna è un'immagine ricorrente la luna è una figura è un elemento imprescindibile per l'immaginazione simbolista espressionista ovviamente pensiamo a Wozzeck ma qui in questo caso nell'opera in questione è prima di tutto una metafora della stessa Salome della sua estranietà al mondo che frequenta in cui cos'è sta a vivere poi riflette delle condizioni dei personaggi come seconda funzione per esempio Narrabot appunto l'amante lo spasimante di Salome che pur non ricambiato dice che all'inizio che secondo lui la luna è come una piccola principessa che danza su piedi alati piedi che sono come colombe bianche quindi trasferisce nella luna il suo amore la sua attrazione il suo amore per la stessa Salome il Paggio invece dice che nota che la luna è pallida come donna che esce dalla tomba perché il Paggio è un personaggio che enuncia dei presaggi sinistri in qualche modo e quindi riflette questa sua attitudine nella luna Salome invece dice che la luna trova prima una sorta di sollievo nella luna quando esce da quell'ambiente da quella festa di Erode dei suoi amici nella quale non poteva più stare esce e dice che la luna è come un fiore argento fresco e casto e la bellezza di una vergine è rimasta pura e poi anche in Yohanan dice che Yohanan è casto come la luna Erode che aspetto alla luna questa sera si direbbe una donna impazzita che cerca amanti dappertutto una donna ubriaca che barcolla tra le nuvole quindi sono tutti nelle loro battute citano la luna vedono nella luna uno specchio del loro sentimento del loro stato d'animo solo per la più prosaica Erodiade come sentirete questo non è lei taglia proprio mette la parola e dice la luna è la luna ed è tutto perché si era un po' stancata di tutti questi riferimenti alla luna Erodiade è infatti un personaggio meno alla fine nonostante la fama meno centrale nella drammaturgia quindi la luna come specchio ma anche come realtà astrale che in qualche modo domina la volontà dei personaggi ma anche questo lo vedremo appunto nello scioglimento più avanti di questo racconto adesso proseguendo ancora nel nostro esame vorrei parlare perché ci sono delle cose molto interessanti da dire sul libretto e sulla partitura il libretto di Wilde perché di fatto il libretto pur con i tagli rimane un libretto di Wilde pur nella traduzione di Edwig Lachman a rileggerlo oggi ha dei aspetti davvero moderni e ineriti per l'epoca non tanto per le immagini ricercate per i contenuti diciamo anche un po' scioccanti per l'epoca quindi per la materia letteraria neanche per la lingua preziosa ricordiamo che poi tra l'altro Wilde la scrisse in francese lui sapeva ovviamente parlare scrivere in francese ma non era la sua lingua però lo disse che lo fece apposta in francese perché dato che non era la sua lingua potevano venire fuori dei giochi linguistici in qualche modo un po' artificiali e questo gli avrebbe fatto piacere ma appunto non è tanto questo ma più che altro per l'aspetto costruttivo di questo libretto che mi ha colpito molto leggendolo volevo appunto leggervi qualche qualche frase perché se lo leggete provate anche voi a leggerlo prima di seguire l'opera senza musica vi rendete conto che ci sono degli aspetti di ricorrenza degli aspetti costruttivi che lo rendono davvero diverso dagli altri libretti per esempio non c'è una costruzione spesso è smentita la costruzione dialogica il dialogo nel dialogo si presuppone che ci siano delle domande e risposte così che il teatro di prosa soprattutto del borghese dell'ottocento va avanti come dire botta e risposta fra i personaggi qui invece sembra quasi che i personaggi procedano senza capirsi quindi come in una costruzione polifonica quindi a più voci della musica in cui una voce procede indipendentemente in autonomia rispetto alle altre voci quindi senza una vera grado di comunicazione per esempio all'inizio appunto come è bella questa sera la principessa Salome dice Narrabot a se stesso il paggio interviene la guardi continuamente la guardi troppo è pericoloso guardare una persona in quel modo può accadere qualcosa di terribile Narrabot continua sulla sua strada è tanta bella questa sera e poi anche i soldati il tetrarca allo sguardo cupo là nella sala e rimane lì Narrabot riparte di nuovo come è bella la principessa non l'ho mai veduta così pallida è come l'ombra di una rosa bianca in uno specchio d'argento e il paggio non devi guardarla così tu la guardi troppo può succedere qualcosa di terribile quindi tutto rimane e potrei citare anche altri passaggi in una sorta di incommunicabilità tra i personaggi che hanno la loro prospettiva e dicono le loro battute come se fossero in una loro linea musicale che poi entra dopo questo scambio la voce di Giovanni che è come se fosse in una polifonia la voce del basso nella mano sinistra dell'organo con le sue dopo di me verrà uno più potente di me io non sono degno neppure di sciogliere i lacci dei suoi calzari quindi mentre i due fanno la loro polifonia c'è una voce una voce più di basso che entra ripeto come e questa incommunicabilità tra i personaggi è anche sottolineata dalla lo noterete anche voi leggendo poi i sottotitoli o ascoltando dal tema del guardare c'è un gran gioco di sguardi in questo libretto guardare e non essere ricambiati dallo sguardo qui appunto sempre all'inizio la guardi continuamente la guardi troppo appunto dice il paggio il primo soldato il tetrarca ha lo sguardo cupo il primo soldato chi sta guardando e poi la voce di Giovanni sono nella prima pagina quando verrà gli occhi dei ciechi vedranno la luce del giorno e poi ancora l'uomo di Cappadocia è possibile vederlo non la guardare ti prego non guardarla entra Salome perché il tetrarca continua a guardarmi così eccetera quindi l'argomento del guardare del non essere guardati come dicevo avevo segnato alcuni di questi casi per esempio appunto Narrabot guarda Salome come abbiamo sentito e il paggio gli intima di non guardare Salome guarda Yohanan e così si crea quasi una sorta di triangolo più un'altra persona esterna quindi Narrabot guarda Salome Salome non guarda Narrabot Salome guarda Giovanni e Giovanni non guarda Salome e c'è una voce esterna che è quella del paggio che dice che è intima di non guardare questo schema si ripropone anche nella seconda parte dell'opera dove abbiamo invece Erode che guarda Salome e non viene riguardato Salome che guarda Giovanni e non viene riguardata e fuori Erodiade che continua a ripetere soprattutto ad Erode non la guardare non guardare mia figlia quindi c'è proprio questo questo schema di incomunicabilità anche nel tema del guardare che crea appunto due moduli due moduli di personaggi e poi ci sono sempre in tema di modernità del libretto delle ripetizioni formali come appunto in musica come sappiamo in musica la ripetizione è lo strumento principale per costruire forma la forma ABA in cui si ripete la alla fine la forma sonata in cui c'è la ripresa eccetera anche in questo caso ci sono queste queste ripetizioni ne cito soltanto una appunto quella della scena della terza scena il confronto tra Salome e Giovanni in cui proprio tutto l'incontro è gestito da puntista letterario dalla ripetizione di un modulo indietro figlio di Babilonia dice Giovanni attraverso la femmina entrò il male nel mondo non mi parlare e Salome cerca invece di coinvolgerlo di ottenere le sue attenzioni poi seconda modulo indietro figlia di Sodoma stavolta non mi toccare non profanare il tempio del Signore del mio Dio e anche lì Salome interviene sempre cercando di sedurre terza occorrenza mai figlia di Babilonia figlia di Sodoma mai e anche lì quindi c'è una sorta di costruzione appunto quasi musicale ecco perché dicevo la modernità è proprio questo uno dei temi del decadentismo della clima letterario di quel periodo quello di come dire rendere musicale la parola poetica e letteraria sappiamo che i poeti gli scrittori di questo periodo avevano questo ideale che poi viene come dire riassunto nell'art pur l'art l'arte per l'arte in effetti era questo cioè la trasformazione di una parola poetica o letteraria in musica e se ne ha un esempio proprio in questo nel fatto che ci troviamo di fronte a un libretto musicale non come è stato detto un'anticipazione del teatro dell'assulto secondo me del fatto che i personaggi non non comunicano perché c'è una volontà sperimentale nel punto di vista del teatro ma proprio perché c'è questo ideale questo mito anche dal punto di vista letterario della musica della musica con le sue strutture le sue forme che informa anche il linguaggio il linguaggio poetico altro aspetto avviandoci agli ascolti in effetti siamo proprio è proprio giunto il momento quello della partitura non abbiamo detto che il libretto è formato è in sostanza tripartito la storia della drammaturgia pur essendo in quattro scene è tripartita perché si informa alla scansione del teatro classico della tragedia classica di esposizione peripezia e catastrofe quindi le prime tre scene sono in sostanza l'esposizione la prima scena al primo momento della quarta è la peripezia quella in cui Salome si mette in gioco per per ottenere da Erote il suo compenso e questa peripezia si conclude appunto con la danza dei sette veli l'ultima parte della quarta scena è la catastrofe dove succede appunto quello che tutti sappiamo la richiesta della decollazione di Giovanni di avere questa testa servita su un piatto d'argento dal punto di vista musicale invece sentirete che c'è un elemento un grande intermezzo sinfonico tra le due diciamo tra le prime tre scene e la quarta quindi invece dal punto di vista musicale la partizione è diciamo bipartita con un grande intermezzo sinfonico che divide la prima parte della seconda ma non sono in contraddizione di fatto questi due elementi e poi dal punto di vista della partitura appunto c'è quello che è l'esito della literatura opera che dicevamo all'inizio di questa possibilità di musicare un libretto in prosa che il libretto non è quindi una costruzione vagneriana fatta da di temi tanti temi che si intrecciano che ricompaiono che si sovrappongono c'è una sorta quasi di bulimia tematica cioè Strauss non si accontenta di non ha un atteggiamento di tipo logico nei confronti dello sviluppo tematico per cui come accadeva in Wagner o in Liszt in cui ogni elaborazione tematica ha un significato preciso c'è anche questo ma c'è soprattutto questa questa sovrabbondanza di presenza tematica che infatti fece dire ad Adorno e ad altri critici del compositore della partitura che mancava la musica nella Salome non riesce a costruire una drammaturgia perché appunto c'è questa incapacità ovviamente di costruire lo diceva Adorno quindi lo possiamo possiamo dargli ascolto è un grande critico del novecento di costruire della forma ovviamente poi dopo in seguito altri autori per esempio il nostro Mario Bortolotto hanno puntualizzato hanno detto che forse non è necessaria perché non è un teatro che vuole costruire dialetticamente e logicamente dei percorsi ma è un teatro fatto di epifanie di apparenze quindi in cui la musica deve liberare queste immagini queste visioni sonore senza appunto pregiudicarsi nulla però dal mio punto di vista in realtà è vero che c'è questa forte sovrabbondanza tematica e voi stessi farete forse non fatica ma vi stupirete di quanti elementi insieme dal punto di vista tematico possono essere citati però secondo me un percorso tematico su cui si regge la storia e la drammaturgia musicale c'è ed è proprio un percorso che descrive una metamorfosi del personaggio di Salome se esiste una metamorfosi come abbiamo visto dalle fonti letterarie più antiche a quelle di Wilde quindi che è un personaggio che si è trasformato pur ritenendo tutto ciò che la storia come abbiamo detto aveva fissato in precedenza in Strauss c'è una trasformazione si parte da una da un personaggio che è tutt'altro che la appunto come dicevo prima la virago che conosciamo l'inizio l'esordio dell'opera è appunto una presentazione del personaggio di Salome e poi di Giovanni che va in una direzione completamente diversa poi ci sarà un secondo momento in cui c'è l'incontro tra due personaggi un altro numero di temi che configurano e raccontano l'incontro di Salome e di Giovanni poi c'è il terzo momento che invece descrive la seduzione di Salome e quindi la sua capacità seduttiva in qualche modo è improvvisamente subito dopo la sua metamorfosi sinistra perché quando Salome si accorge di non essere ricambiata da Giovanni si trasforma da angelo da luna casta pallida della situazione iniziale diventa appunto qualcosa di molto diverso e poi come esito finale insieme al delirio dell'ultima scena appunto quella famosa del piatto della testa del bacio necrofilo però lì c'è anche una sorta di redenzione del personaggio come vedremo perché la musica è proprio un significato che apporta la musica così bella così splendente in quel momento in quel momento non può che farà altro che darci una prospettiva diversa di Salome stessa lo vedremo anche leggendo brevemente alcune delle parole che dice il libretto però appunto volendo seguire questo percorso quindi presentando il personaggio facendo incontrare i due e poi dopo seguendo la metamorfosi e il delirio redenzione finale proporrei dei brevi ascolti proprio per darvi la possibilità di identificare anche i temi che poi vengono suonati dall'orchestra e cantati in modo che possiate memorizzarli partiamo proprio con il primo ascolto che è l'inizio dell'opera voi sentirete al carinetto un tema sensuale cromatico come dicevo esotico che è proprio la presentazione di questo fiore che è Salome di fatto e poi quando vi darò indicazione io successivamente ci sarà un momento in cui quindi parlano un arrabot del paggio alludendo a Salome poi c'è il rumore della festa a casa di Erode con lo schiamazzo dei giudei e poi subito dopo entra la voce di Giovanni che viene commentata dai soldati quindi sentiamo all'inizio il tema del carinetto e poi più avanti quando vi do indicazione il tema diciamo di presentazione di Giovanni prego di dare via all'ascolto per dire appunto questo era il primo momento i primi due temi quello di Salome il carinetto quello di Giovanni questo tema nobile ai corni poi c'è invece sono i momenti dell'incontro tra Salome e Giovanni quindi perché questo è come dire il secondo tema di ciascun personaggio in cui che segnano un po' l'interagire reciproco ora vi ponete molto in mente questo tema che sentiremo adesso ascolta all'inizio perché quello è un po' che svela tutta la chiave di lettura la profonda chiave di lettura che c'è dietro appunto la drammaturgia della Salome è il tema di Giovanni il secondo tema di Giovanni ma in qualche modo anche il tema attraverso cui Salome vede Giovanni descrive una vastità un'immensità che è proprio l'immensità del deserto da cui Giovanni veniva quindi c'è questo alla salita dalla cisterna di Giovanni perché Salome riesce a ottenere da Narrabot la possibilità di vedere Giovanni il profeta sale e appare con un tema che sentiremo adesso dopo il quale invece arriverà il tema il secondo tema di Salome che è quello della sua ossessione dell'inizio dell'ossessione della principesta per questa figura e ve lo indicherò quando compare adesso iniziamo col tema di Giovanni appunto perché vedo che il tempo passa e volevo arrivare alla conclusione facendovi sentire prima in maniera diciamo un po' sintetica quindi non per esteso ma in modo che voi possiate identificarlo poi durante durante la recita il tema che si espanderà nel corso poi di questa scena il famoso tema del bacio in cui Salome proprio dice vorrei baciare la tua bocca Giovanni e lo ripete così tante volte che appunto diventa quasi appunto un delirio seduttivo e il tema è questo questo è il tema che dopo questo incontro in cui abbiamo sentito che ci sono questi due temi del deserto e della ossessione di Salome espanderà tutta la terza scena con questa ampiezza melodica che avete sentito anche da queste poche battute ma la cosa più interessante avviene alla fine della terza scena perché quando poi Giovanni appunto si nega totalmente alle avance chiamiamole così di Salome quindi alla sua volontà di baciarlo e ritorna dentro la cisterna c'è quell'interludio sinfonico di cui vi dicevo prima che divide in due parti l'opera che è appunto uno dei capolavori poi dell'arte orchestrale di Strauss ma alla fine del quale si realizza la metamorfosi della stessa Salome perché come dire ritorna il tema iniziale quello che abbiamo sentito che se volete vi faccio sentire in termini molto brevi appunto questo al calinetto arriva questa figura acquatica quasi viene trasformata affidata al controfagotto e trasformata in una maniera sinistra proprio in questo caso è la musica che ci sta raccontando la metamorfosi di questo personaggio ascoltiamo quala prima parte Ecco, in questo momento è poi anche dall'inciso, dal tema che seguirà immediatamente dopo, è la conclusione dell'intermezzo sinfonico che segna la metamorfosi del personaggio, quindi con questa trasformazione metamorfosi musicale. E poi dicevamo l'ultimo momento, appunto quello che ho chiamato del delirio finale, perché in effetti è indubbiamente un momento delirante, quello in cui Salome presa ebbra dal suo desiderio, ottiene la testa e poi lo bacerà, appunto, la testa sul vassocchio d'argento. Però c'è, è stato sottolineato, nella bellezza di questa musica, di questo grande lead finale che canta Salome, quasi una redenzione dello stesso personaggio. Una musica così bella non può che redimere, ma non è detto in termini soltanto così immediatamente banali, vorrei dire, no, c'è proprio un riferimento nel tipo di canto, nel tipo di situazione all'isotta wagneriana, quindi all'Ibestod dell'isotta in cui alla fine amore e morte coincidono, ma in un canto splendido, meraviglioso, appunto, che segna appunto la redenzione del personaggio. Qui non c'è ovviamente la redenzione. Salome cita nel suo monologo finale questa coincidenza, dice che il mistero dell'amore supera il mistero della morte, ma in qualche modo questa prospettiva qui viene rovesciata, perché non c'è una compenetrazione dei due amanti in un amore superiore che viene dopo la morte, ma c'è invece, rimane per lei questo desiderio inappagato, quindi la morte lascia questa sorta di appunto desiderio non risolto che invece lascia emergere tutta la tristezza della carne, di questo testa appunto priva di vita che delude colei che aveva pensato di risolvere le sue pulsioni baciando la testa di un profeta decollato. E quindi c'è questo bellissimo momento, non so se possiamo sentire, non so, forse sì, qualche minuto dell'ultimo ascolto, che è appunto una parte di questo canto, che è appunto splendido, che contiene un tema che se volete vi faccio sentire, così poi l'ho memorizzata anche questo, l'ho chiamato il tema della redenzione, ovviamente non è stato chiamato così, però rende l'idea. Ecco, forse vedo che ci avviciniamo alle sette, quindi forse può bastare questo ascolto, questo inciso tematico che proprio ci fa, lo memorizziamo adesso perché è protagonista del canto finale di Salome in cui, appunto ripeto, come una sorta di isotta da segno diverso conclude la sua vicenda appunto con un canto così, di questo tipo. Questo mi permette appunto di dedicare gli ultimi minuti della mia esposizione a un aspetto cruciale a cui, secondo me, di tutto quello che abbiamo detto in cui i fili si riannodano, che tra l'altro è molto vicino a quello che è stato fatto, all'interpretazione che è stata data anni fa dal regio di Torino con la regia di Carson, perché la riflessione parte dall'identità del tema del deserto, non so se lo ricordate, questo tema ampio, statico, immenso, che dà proprio l'idea dello spazio, dell'immensità, l'identità di questo, la somiglianza, l'analogia col tema di un poema sinfonico di Strauss, così parlò Zarathustra. Non so se ricordate, se avete in mente, il film 2001, edizione dello spazio, che cita all'inizio questo tema bellissimo, che è proprio l'esordio del poema sinfonico straussiano, che ha la stessa conformazione, quindi dei bassi statici, delle armonie statiche, un tema che si espande orizzontalmente, è la stessa conformazione che sentiamo in questo tema del deserto, che vi ho fatto sentire, che appunto contraddistingue l'incontro di Salome nei confronti di Giovanni, la sua meraviglia nello scoprire questa dimensione. E infatti, secondo me, è stato detto forse poco, ho sottolineato poco, ma l'identità di questi due temi che ci fanno supporre una lettura nicciana dell'opera in questione. Così come lì, così parlava Zarathusta nel poema sinfonico, così, con lo stesso, con questa identità tematica, si può interpretare l'atto di Salome di chiedere alla testa di Giovanni di volere la morte di un Dio come quello che diceva Nietzsche della volontà di potenza che appunto ci libera dalla morale, ci libera dai nostri schemi, ci libera dalle nostre costrizioni per darci una realtà nuova, un nuovo giorno, una nuova alba, come quella che appunto descrive in così parlo Zarathustra, ma poi anche nell'Alpen Sinfonie questa epifania di un mondo nuovo. Secondo me è molto interessante questo aspetto, questa possibile lettura nicciana proprio basata sull'identità e l'analogia fra i due temi. Poi chi sono gli dei davvero da abbattere per Salome? Chi sono i dei da far cascare, da far cadere? È veramente Giovanni il Dio, appunto come racconterebbe la storia? Forse no, come ci dice appunto lo stesso tema, di fronte a cui Salome rimane come cantata appunto questo tema che è così importante. E che tra l'altro lei stessa nel monologo finale, quando ricorda il motivo per cui ha voluto che Giovanni venisse decollato, dice una frase emblematica quando ricompare questo tema del deserto ancora per l'ultima volta. dice che la tua voce era un turibolo pieno di incenso e guardando udivo una musica misteriosa. Nel suo lead finale c'è questa citazione del tema che compare proprio quando lei dice quella voce mentre parlava mi compariva una musica misteriosa che non può che non essere questa musica che abbiamo detto del deserto, questo tema dell'immensità, dello spazio incontaminato. E come diceva appunto questa, a volte i registi spiegano e trovano delle notazioni penetranti più che gli altri, più che gli studiosi, più che i musicologi, i critici, senza altro. La regia di Robert Carson aveva molto puntato su questo aspetto. Appunto non la vedremo purtroppo ma è andata in scena appunto in questo teatro e quindi è giusto ricordarla. L'ambientazione in quel casino un po' Las Vegas, un po' Cesar Palace indicava proprio la presenza incombente del denaro come legge che domina tutto, della prostituzione anche minorile perché c'erano le avance di Erode ma anche degli altri nei confronti di questa fanciulla adolescente. L'insofferenza di Salome nei confronti di questo ambiente che la opprimeva, che non le interessava appunto soldi, vizi, non era... è per contro la visione invece di questi spazi, di questi spazi immensi. Alla fine della dramma, della partitura visiva diciamo così di Carson c'era la svolta, la chiave, il gesto conclusivo che chiariva questo teorema perché appunto quando Erode dice uccidete quella donna i soldati in questo spettacolo uccidevano non Salome ma Erodiade e Salome, vuol dire una nuova Salome che era cresciuta, era cambiata, era cresciuta, secondo cui quest'opera è una sorta di iniziazione, si avviava, si aprivano le quinte e si avviava verso un deserto, il deserto da cui era venuto Giovanni, forse anche il deserto da cui era sceso Zaratustra, possiamo pensare per predicare quando venne appunto come racconta Nietzsche per predicare nel mercato. Ecco questa idea molto forte, molto convincente di Carson che appunto peccato la racconto perché non potremmo vederla ma rappresentava appunto la controparte di quello che ho detto, la possibilità di un'interpretazione in chiave niciana che risolve un po' quelle cose che avevo detto all'inizio, come dire quell'immaginario che si è mai consolidato della virago, della ninfomane, della lussuriosa, della baccante che abbiamo detto che è di fatto fuorviante perché non è presente nelle fonti dell'epoca e non era neanche nell'indole nelle intenzioni di Strauss. La lettura ci dà proprio questa lettura di Carson, ci dà una possibilità diversa di interpretare Salome come un personaggio in qualche modo anche filosofico, anche con una idea ben precisa interiore e filosofica della vita e delle sue intenzioni e siccome lo spettacolo lo ha messo in scena volevo appunto ricordarlo, questo, a me è piaciuto molto quello spettacolo e quindi ho voluto con tutta questa esposizione e richiamando lo spettacolo alla fine condividere questa idea con voi. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.